benvenuta benvenuto a questa nuova puntata di sinergie naturali oggi ci facciamo una domanda come si esce da una trappola questo è il tema che affrontiamo in questo incontro di sinergie naturali e come sempre lo faremo con l'aiuto dei nostri rimedi naturali preferiti ossia le essenze floreali e gli oli essenziali ma ora do la parola a barbara che inizierà a parlarci proprio delle e delle essenze floreali oggi vedremo nello specifico per rispondere a questa domanda come si esce da una trappola sia quando ci si sente imprigionati fisicamente da qualcosa ma ancora di più quando ci si sente imprigionati mentalmente da una situazione da cui magari non troviamo la forza di uscire non vediamo la strada per venirne fuori ecco c'è un'essenza del bush australiano che si chiama red grevillea che è quella che vediamo insieme oggi che vedete anche nell'immagine e la prima cosa che salta all'occhio è che questo bellissimo fiore australiano intanto ha due particolari nella sua segnatura intanto il colore di base è un colore rosso che ci rimanda al primo chakra che ci rimanda a tutte le dinamiche di sopravvivenza di quello che riguarda la nostra vita pratica il nostro radicamento e l'altra cosa è questa immagine che ricorda se lo guardate bene quasi quasi un ragno di quelli dai mille tentacoli e se noi pensiamo al ragno nella sua ragnatela è esattamente la simbologia del povero insetto la mosca il moscerino o qualunque altra cosa che finiscono intrappolati in questa ragnatela e da lì non possono più muoversi fino a che non arriva il ragno a mettere fine alla loro vita quindi red grevillea è un'essenza adeguatissima alle persone che si sentono bloccate da qualcuno o da qualcosa da forza coloro che si rendono conto di dover uscire da situazioni sgradevoli senza tuttavia sapere capire in che modo a volte queste persone dipendono troppo dagli altri e non usano le proprie risorse come dovrebbero spesso sono molto sensibili alle critiche e queste critiche li portano a un certo punto a chiudersi ulteriormente in se stessi quindi la luce che li porta fuori dalla trappola si allontana sempre di più red grevillea aiuterà a uscire dal guscio promuovendo indipendenza e audacia nella propria quotidianità una cosa da tenere presente quando si assume quest'essenza è che è necessario non essere troppo attaccate alle proprie aspettative in merito cosa sarebbe più conveniente fare in una certa situazione perché tante volte quando noi cerchiamo una soluzione un problema valutiamo le cose più logiche più razionali o che siamo sempre stati abituati a fare col risultato che magari quella volta lì non ci portano da nessuna parte quindi a volte bisogna avere anche la pazienza di aspettare che questa soluzione si profili un percorso apparentemente lento ci darà la possibilità di apprendere le lezioni più importanti come dicevamo prima la somiglianza di questo fiore a un ragno allude alla difficile condizione in cui si trova la persona che sta attraversando uno stato red grevillea cioè si sente intrappolato nella ragnatela come un insetto red grevillea può essere appropriato in molte situazioni ad esempio quando si sta svolgendo un lavoro che non si ama ma che non si ha il coraggio di lasciare per tanti motivi quindi queste persone che attraversano questo stato d'animo adatto a questo fiore sanno di cosa hanno bisogno ma non sanno come cambiare la situazione in cui si trovano quindi ci vuole la chiave che gli apra la porta come si assume l'essenza red grevillea come tutte le altre essenze australiane 7 gocce sotto la lingua la mattina appena svegli e la sera subito prima di andare a dormire e si consiglia di fare un primo ciclo almeno di 21 giorni come ci ha spiegato barbara ci sono quindi tre punti fondamentali su cui ci stiamo concentrando generare dentro di noi la forza per allontanarci dalle situazioni che ci tengono intrappolate essere liberi dal condizionamento che viene prodotto su di noi dal giudizio degli altri e riuscire a intraprendere la propria strada proprio per questo motivo ho pensato di proporre un bouquet aromatico da utilizzare per trasformare lo stato o gli stati emozionali che hanno creato questo senso di intrappolamento il bouquet aromatico che propongo ovviamente bouquet aromatico con oli essenziali è composto da una nota di testa ovvero un aroma che lavora principalmente sulla mente sui nostri pensieri una nota di cuore la cui frequenza leggera arriva al cuore tocca l'anima e una nota di base che dà forza e stabilità e quindi ha un effetto regolatore e stabilizzante gli oli essenziali che ho scelto per questo bouquet sono il bergamotto che è la nota di testa del nostro bouquet aromatico e questo olio essenziale ci aiuta a contrastare l'eccesso di indulgenza nella nostra testa ovvero quella tendenza che ci porta a ricadere sempre nella stessa trappola che conosciamo che detestiamo ma dalla quale in qualche modo non riusciamo ad uscire l'effetto del bergamotto sulla mente è rilassante rinfrescante e aiuta a sollevare le energie e a liberare il senso di oppressione e lo fa attraverso la gioia e il sorriso il secondo componente di questo bouquet è la maggiorana che rappresenta la nota di cuore e ci insegna a dire no a liberarsi dall'eccessiva sensibilità alle critiche che ci arrivano dall'esterno e anche dal condizionamento di cui ci si sente vittime la maggiorana aiuta ad ancorarsi al presente a saper cogliere l'occasione che ci si presenta in ogni momento in ogni istante favorisce una migliore visione di insieme e noi sappiamo che più è ampia la visione e minore e minori sono le possibilità di cadere vittime di situazioni sgradevoli e concludiamo questo bouquet con l'elicriso che rappresenta la nota base del bouquet e quindi ha il compito di stabilizzare gli effetti di tutti gli altri olio essenziali in particolare quest'olio aiuta a risvegliare l'anima perché possa ricordare e riappropriarsi della propria bellezza del proprio potenziale e della propria forza l'elicriso rappresenta la luce e questo già lo anticipa il suo colore giallo intenso e riesce a rasserenare qualsiasi situazione possiamo dire che è la luce in fondo al tunnel come possiamo preparare questo bouquet aromatico beh possiamo per esempio preparare un roll on da 10 ml con 10 da 7 a 10 gocce di oli essenziali e la proporzione è un 10 15 per cento della nota di testa un 40 80 per cento della nota di cuore e un 5 per cento della nota di base quindi nel nostro caso si possono mettere nel roll on 5 o 6 gocce di maggiorana 3 o 4 gocce di bergamotto una o due gocce di elicriso e poi completare il roll on con l'aggiunta di un olio vegetale ovviamente di qualità come per esempio quello di jojoba o di mandorle dolci fino al riempimento della boccetta dopo che avrai preparato questo roll on potrai usare questo preparato più volte nella giornata applicandolo su polsi tempie dietro la nuca e anche nell'area del cuore un altro modo in cui puoi utilizzare questo bouquet è facendo uno spray da 10 20 ml mettendo gli oli essenziali puri nelle proporzioni sopraindicate e poi nebulizzarla più volte al giorno nell'ambiente in cui ti trovi ovviamente le dosi di prima erano per i 10 ml se userai uno da 20 dovrai raddoppiare le dosi un terzo e ultimo modo in cui puoi usarlo è in diffusione usando quindi un diffusore a ultrasuoni nel quale metterai dell'acqua con l'aggiunta degli oli nelle sempre nelle proporzioni sopraindicate calcolando una goccia per metro quadro quindi dovrai sapere più o meno la grandezza della stanza fino però ad un massimo di 12 15 gocce ecco questo è diciamo il il bouquet aromatico che puoi utilizzare insieme al al fiore australiano proposto da da barbara bene ancora una volta abbiamo visto come appunto le sinergie naturali che sono il titolo della nostra rubrica possono aiutarci a rispondere delle domande e ci auguriamo che i consigli pratici e speriamo piacevoli che ti abbiamo dato questa volta ti portino a trovare un sostegno nel tuo aprire la porta della tua gabbia o uscire dalla ragnatela vischiosa del ragno se ti è piaciuto il nostro video naturalmente lasciaci un like condividilo il più possibile iscriviti e fai iscrivere al canale youtube di città aurea e facci sapere se ci sono altri argomenti che ti piacerebbe vedere trattati nelle prossime rubriche e prima di lasciarti comunque ti vogliamo sempre ricordare che questi argomenti che stiamo trattando quindi essenze floreali oli essenziali sono parte di un percorso molto più ampio nel quale ovviamente sono inserite anche molti altri argomenti molte altre materie e discipline e che compongono quello che è un percorso di crescita personale della durata di nove mesi al quale noi teniamo molto che si chiama seme aureo se vuoi sapere di più di questo di questo percorso puoi visitare il nostro sito internet www.citaurea.it nell'area che porta appunto questo nome ossia seme aureo sapendo che in realtà poi ci sono anche ce n'è anche un'altra dove ci sono anche altri corsi e oppure puoi scriverci un'email a info chiocciolacitaurea.it facendoci diciamo tutte le domande del caso e le quali saremo ben felici di rispondere detto questo non possiamo che far altro che salutarti invitarti al prossimo incontro grazie ciao arrivederci